appena svegli ci tuffiamo corpo e anima nello cavango lo sguardo fruga la vegetazione in cerca di leopardi sugli alberi a terra l'atmosfera che regna in questo paesaggio è un indicatore della loro presenza se letta correttamente tracce di femmina di leopardo puntano dritte alla pangolin forest sembrano fresche le segue per trovare leopardi occorre pensare come loro agire come loro si impara col tempo chilometro dopo chilometro grazie 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 grazie